Si ferma all'alte dei carabinieri ma fugge subito dopo dando via ad un inseguimento. È successo a Taviano, poi si è scoperto subito dopo il motivo. Al volante vi era un ragazzo di 19 anni ma senza patente. I carabinieri della compagnia di Casarano hanno così denunciato il giovane che ha tentato la fuga con un colpo d'acceleratore. Nella foga delle manovre però la sua vettura ha colpito con violenza la parte anteriore del mezzo dei carabinieri per poi dileguarsi per le vie della città. I carabinieri hanno iniziato a tallonarlo ed è stato bloccato ad un incrocio della centralissima via Gallipoli fortunatamente senza conseguenze per gli altri automobilisti. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato è stato di libertà con le accuse di resistenza pubblico ufficiale danneggiamento.